C'è chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori. Ora ognuno può trovare quello di cui ha bisogno. I giovani hanno nuovi vantaggi e opportunità grazie all'apprendistato e le aziende hanno nuovi incentivi per assumere di più. Perché se cresce il lavoro, riparte l'economia. Informati su cliclavoro.gov.it Campagna a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Grazie a tutti.